Si sono costituite ieri nel corso del Consiglio Comunale le quattro commissioni consigliari permanenti. Tre le presidenze assegnate alla maggioranza ed una all'opposizione. Alla coalizione di governo sono andate la prima, la seconda e la quarta commissione, rispettivamente ai consiglieri Raffaele Silvestri, Antonio Avallone e Francesco Fusco. Alla consigliera di minoranza Isabella Mangino, in quota Fratelli d'Italia, è stata invece assegnata la presidenza della terza commissione. È una presidenza che parte da un criterio, è una commissione che si occuperà della trasparenza degli atti, delle pari opportunità, delle questioni dove è giusto che la minoranza possa avere voce in capitolo, possa essere determinante, possa in qualche modo svolgere la funzione anche di vigilanza e controllo. Quindi rispetto a quelle che sono le scelte fatte dalle precedenti amministrazioni, anche su questa scelta abbiamo deciso di cambiare, abbiamo riconosciuto quello che in realtà poi era dovuto, aspettava il ruolo della minoranza che è appunto la presidenza della commissione sulla trasparenza.